Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Con i 5 Stelle, quando vi dice dove vive, i 5 Stelle sono indispensabili. I 5 Stelle hanno dimostrato di aver dimezzato il loro consenso e di essere, hanno perso 3 milioni di voti, 6 milioni di voti, non mi ricordo neanche più, sono passati dal 33 al 15 concentrandosi sul sud. Cioè vogliamo pensare che il Partito Democratico non possa avere l'ambizione di guardarsi dentro e di dire che cos'è lui senza dover guardare fuori. Prima guardiamo che cosa siamo noi, perché a me l'idea di fare un congresso che parte dalle alleanze, dal fatto che noi, che siamo al 19%, secondo le interpretazioni di qualcuno, ci dovremmo sciogliere con quelli che sono al 15 e concentrati solo da una parte del paese, mi sembra un po' miope. Io vorrei che la proposta del Partito Democratico tornasse a essere quella, di quella capacità espansiva di parlare a più mondi possibili. Ognuno con la sua identità. Voglio dire intanto con quella del PD. Appendino.